Grazie Alessandro, rimani collegato, è giallo su chi è ucciso in un agguato a colpi di fucile Francesca Romeo, 67 anni, guardia medica di Santa Cristina. Da Spromonte, nel Regino, la procura risentirà per la terza volta il marito della donna che era in auto con lei. Sentite? E' un'immagine, non dimenticherò mai. E' ancora avvolta nel mistero la morte della dottoressa Francesca Romeo, la donna di 67 anni uccisa in un agguato sabato mattina. Era a bordo dell'autovettura con il marito ed era di ritorno dal turno di lavoro. Antonio Napoli, marito della vittima, psichiatra e anche lui rimasto ferito nell'agguato, dice di non aver visto nulla. Gli investigatori non tralasciano nessuna pista. Si scava anche nella vita professionale della dottoressa, sequestrati i registri delle visite ambulatoriali. E' da 35 anni che ero in lavoro con lei. Non abbiamo avuto un problema con nessuno, ma neanche lei. Questo significa essere un medico di guardia medica in una realtà come la nostra. Abbiamo visto morta lì per terra, è stato un shock. Abbiamo collegato anche il sindaco, ma intanto andiamo da Maria Grazia San Rocco. Maria Grazia, quello che è il racconto di un mistero. Stanno sentendo questo marito, perché all'inizio si era pensata una pista mafiosa, ma al momento il procuratore ha dichiarato che questa pista è stata assolutamente esclusa. Che cosa è successo a questa donna? Chi voleva male a questa donna e perché? A te. Buongiorno Leonora, buongiorno a tutti. Intanto noi ci troviamo proprio lungo la statale che collega Santa Cristina da Spromonte a Seminaro, il paese in cui viveva la coppia. Volevo farvi vedere questo luogo, perché è proprio qui il luogo in cui c'è stata questa aggressione, questo agguato, perché viene definito proprio un agguato. Vedete, in fondo c'è quel cespuglio. Ebbene, l'autovettura stava percorrendo questa strada. C'è una curva ad U e lungo quel tragitto è stata colpita l'autovettura. Due colpi di fucile, questo è quello che è stato ricostruito dagli investigatori. Un colpo frontale ed uno laterale. Ed è proprio quello laterale che ha colpito la dottoressa, uccidendole, ferito di striscio il marito. Il marito ha proseguito il percorso fino ad arrivare a circa 300 metri da qui. Ora pian piano ci arriveremo. Non si era reso conto di quello che fosse accaduto alla moglie. Ha sentito questo forte boato. Ha pensato che fosse stato causato da qualcosa, perché ha visto anche l'apertura dell'airbag. E poi si è reso conto che invece sua moglie era stata colpita ed era in gravissime condizioni. Purtroppo la dottoressa è morta subito dopo. Non c'è stato nulla da fare. Cosa è accaduto realmente? Perché qualcuno ce l'aveva con questa dottoressa, amata, stimata, rispettata da tutti? Si indaga a 360 gradi. Il procuratore, come hai sottolineato tu, tende ad escludere ed esclude al momento la pista mafiosa. Quindi non ci sono collegamenti. Ma perché allora questa dottoressa è stata uccisa? Stanno facendo tanti accertamenti. Stanno sequestrando delle cartelle cliniche e i tabulati telefonici. Pensate addirittura ai tabulati telefonici dei cacciatori. Perché questa è una zona frequentata da cacciatori. E soprattutto perché il colpo è partito da un fucile. Un fucile che sarebbe alla portata di tutti i cacciatori. Questa persona si è nascosta, ricordiamolo, perché è stato un vero e proprio agguato. Fino a colpire e ad uccidere la dottoressa. Vita professionale. Una vita specchiata da quello che si dice, così come sostengono gli amici, le tante persone. Dunque la dottoressa potrebbe aver rifiutato qualcosa che le è stato chiesto nell'ultimo periodo. Qualcosa che lei deontologicamente non poteva fare. Non si esclude un'altra pista, però. Proprio questo sta emergendo nelle ultime ore. Forse l'obiettivo non era addirittura la dottoressa, ma il marito, il dottore. Questo sarebbe emerso dalle analisi effettuate sui boss, su quello che è stato ritrovato. Sulla traiettora di questi pallini. Perché sarebbe stata colpita con dei pallini e con un proiettile più grande. Dunque un esame balistico farebbe emergere anche quest'altro aspetto. Il dottore, il marito della dottoressa Romeo, in questo momento non è qui, non è a casa. È altrove, un luogo tranquillo. Non vuole parlare con nessuno. E da quello che si dice, si pensa che abbia anche un po' paura. Perché potrebbe davvero, se l'obiettivo fosse lui e non la moglie, è in pericolo. E potrebbe essere in pericolo. Un altro elemento importante su cui stanno lavorando gli investigatori, naturalmente, è capire cosa potrebbe essere. Ma volevano prendere lui. Questo è il senso, Maria Grazia? Non è da escludere. Potrebbe essere, certo. Questo è quello che emergerebbe dall'esame balistico. Ma ricordiamo che il tutto al vaglio degli investigatori stanno lavorando incessantemente da sabato mattina. Ieri sera è stata effettuata l'autopsia sul corpo della donna e domani pomeriggio ci saranno i funerali. Quindi anche dall'esame otoptico emergeranno sicuramente degli elementi importanti al fine di poter ricostruire quanto accaduto. Sabato mattina, esattamente in questo punto. Sentiamo il sindaco che è in diretta con noi, il sindaco di Santa Cristina da Spromonte. Grazie di essere collegato. Che cosa si sente di dire? Fra l'altro so che c'è stata con l'amministrazione comunale di Sant'Anna di Seminara. ieri sera c'è stata una fiaccolata. A lei, sindaco, grazie di essere in diretta. Ovviamente c'è un mistero, ci sono le indagini in corso, le indagini molto delicate anche. Sì, pronto? Sì, la stiamo sentendo. Dicevo, che cosa si sente oggi di dichiarare? Per quanto riguarda il discorso dell'indagine, è certamente compito mio. La mia speranza è che si possa arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione di questo che è veramente un atto criminale, un giallo che ha colpito una persona, una donna, proprio da altre cose che si sta in questi giorni verificando una serie infinita che non finirà mai, purtroppo, di eventi che colpiscono le donne. Dobbiamo stare veramente attenti tutti, quindi è una cosa molto importante. Il nostro territorio e il nostro ambiente un po' ha risentito in pieno su quello che è successo o rifiuta pienamente quello che è scaduto ed è una tragedia che colpisce una famiglia, una persona per bene, colpisce un'intera comunità sostanzialmente. Per quanto riguarda la dottoressa mi sento di dire soltanto che io da collega so cosa significa essere un medico di guardia medica. Noi abbiamo la fortuna di avere delle persone molto preparate, disponibili, come la vera la dottoressa che da 30 anni naturalmente svolgeva il suo lavoro presso la nostra comunità, quindi era una di noi, penso che ogni singolo cittadino di Santa Cristina abbia vissuto un momento della sua vita insieme alla dottoressa. Sindaco, lei pensa che l'obiettivo fosse stato un altro? Ma questo sinceramente non riesco a darmi una spiegazione assoluta, non riesce nessuno. Noi siamo praticamente come una comunità che è stata colpita improvvisamente con un evento tragico, criminale, che non riesce a darsi una spiegazione. È impossibile pensare di fare delle ipotesi, secondo me, assolutamente. La ringrazio. Prego, si figuri. La ringrazio, ovviamente siamo qui veramente per qualsiasi aggiornamento, se possiamo essere utili. Io ho la speranza di tutta la comunità che si arriva nel più breve tempo possibile ad avere una soluzione di quello che è successo. Lo dobbiamo a Francesca e lo dobbiamo all'intera comunità pure. Allora c'è un dato di fatto, anche perché è appena accaduto, per cui si aggiungono i numeri continuamente di questa guerra enorme contro le donne. È una cosa allucinante, veramente. E tra le altre cose ho avuto modo di ascoltare tanti programmi e mi rendo conto che è molto difficile. Vedo tante domande e poche risposte concrete. Questo è un qualcosa che deve fare riflettere tutti. Lei ce lo dice da amministratore, per cui parlando come amministratore... Sono anche un medico, sono un po' sostanzialmente una persona che vive la comunità 24 ore al giorno sotto tutti gli aspetti. In qualche modo sento il peso veramente importante che stiamo vivendo io e tutta l'intera comunità in questo momento. Sì, ecco, per cui valgono, dicevo, proprio come amministratore e come medico valgono doppiamente queste parole. Sono tante le domande, poche le risposte, i numeri che continuano ad aumentare. Stiamo parlando, adesso sono 106, leggevo prima il tempo, su questi numeri, 84 donne, perché bisogna aggiungerci anche l'ultimo caso di questa mattina, 84 donne sono state uccise tra le mura domestiche o comunque all'interno delle relazioni per mano di uomini fidanzati, mariti o comunque nella relazione affettiva di queste donne. Questi numeri fanno e devono assolutamente fare riflettere, perché le percentuali sono percentuali alte. Alba, grazie sindaco. Siamo qua in studio e sto commentando. In questo caso mi sembra un caso, diciamo che non per fortuna, però mi sembra poco collegato all'ipotesi di un femminicidio. E che ne sappiamo? A me dà più l'idea, se dovessi dare una mia personalissima lettura, comunque direi che sia la pista, cioè un fucile non ce l'hanno tutti, quindi sicuramente hanno ragione gli inquirenti a seguire la pista di qualche persona che probabilmente andava a caccia, che aveva una buona mira, ma anche i medici sono una categoria presa di mira. Tremendamente per problemi di vario genere, per cui questo potrebbe essere legato anche al lavoro del marito. Attenzione, perché che tipo di medico era questa donna, Maria Grazia? Un medico di base, un medico della guardia medica, aveva appena fatto il turno di notte, a differenza del marito, che era uno psichiatra. Esatto. Ecco, il marito era uno psichiatra. Dimmi, dimmi. No, intendo dire che le due cose messe insieme, abbiamo visto quanti casi. Lei guardia medica, quindi io andrei vicino giustamente, seguirei attraverso le cartelle come stanno facendo loro. Le ipotesi di persone che hanno fatto richieste, non si segue la pista mafiosa, ma sicuramente si può seguire la pista di qualcuno, possibile che avesse a che fare anche col marito, perché insomma in psichiatria probabilmente persone così disturbate per arrivare a compiere un omicigio ce ne possono essere di più. Ma anche persone che magari hanno fatto richieste e che non sono state supportate o che nella loro testa possono essere state, non so, diagnosi sbagliate. E' successo altre volte. A Milano di recente anche un medico è stato ucciso in mezzo alla strada per lo stesso motivo diciamo di follia. Però questo sembra un omicidio organizzato. Sì, organizzato, certo. Secondo me è fatto da più persone e con una organizzazione proprio. Prendo una curva, lo aspetto lì, probabilmente qualcuno l'ha avvisato che stava arrivando. Non mi sembra un omicidio di un pazzo. Maria Grazia, mostraci esattamente rispetto ai luoghi, a luoghi, quello che stanno dicendo. Volevo chiarire soltanto un punto. Sì, prego. Sì, volevo chiarire un punto. Questa è una piccola comunità, tutti si conoscono naturalmente e soprattutto tutti conoscono gli spostamenti, quindi anche della stessa dottoressa. Aveva fatto il turno di notte, era in compagnia del marito, il marito poi l'aveva accompagnata, la stava riaccompagnando a casa, per cui sapevano l'orario in cui avrebbe lasciato lo studio medico. Ed ecco qui, questo è il tragitto che ha fatto, ma vorrei mostrarvi quello che c'è attorno. Qui ci sono degli oliveti, guardate, c'è anche un'altra strada. Questa persona probabilmente, conscia del fatto che ad una certa ora la dottoressa sarebbe passata di qui, si è nascosto probabilmente. Intanto volevo dire che al momento si cerca una sola persona. Si è nascosto, si è nascosto tra i cespugli e quando ha visto arrivare la macchina del dottore e della dottoressa, purtroppo ha sparato, ha fatto partire questi due colpi. Attorno a noi c'è soltanto Oliveto, ci sono oliveti, c'è questa strada provinciale e sopra, non so se è visibile, se il nostro operatore riesce a mostrarcelo, c'è la strada che continua naturalmente e che va a Santa Cristina da Spromonte. Siamo veramente vicinissimi al paesino in cui la dottoressa ha lavorato durante la notte, siamo circa a due chilometri e questo è il percorso che solitamente facevano per tornare a casa. Beh, certo, è veramente strano tutto questo, soprattutto perché anche il marito è stato ferito. Attendiamo dunque le indagini e cerchiamo di comprendere se il vero obiettivo fosse stato il marito o invece, anche perché chi vuole colpire, siamo proprio a distanze di Gian Antonio, minime lì, no? Per cui... Le distanze sono minime, ma al pubblico bisogna anche fargli sapere che la dottoressa faceva un turno di notte di guardia medica e il marito dice non la lascio mai sola e quando mia moglie fa i turni di notte io sto con lei. Questo significa che una donna medico che sta da sola in un ambulatorio durante tutta la notte in una zona non frequentata è a rischio di una serie di aggressioni, perché io l'ho fatto all'inizio della mia carriera, arrivano pazienti che vogliono prescrizioni di sostanze stupefacenti, prescrizioni di tranquillanti, prescrizioni di farmaci ai quali uno non ha nessun desiderio di dover essere costretto a prescrivere queste medicine. Quindi c'è anche questo aspetto, la guardia medica di notte dove c'è in presenza una donna da sola è un elemento che moltiplica i rischi legati all'aggressione sanitaria. Grazie e allora fra...